ah 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 siete caduti nella rete ebbene sì lo ammetto il titolo del video è un pochino spinto per farvi fare click e vi avviso subito a scanso di delusioni precoci qui non compariranno bocce meloni seni o cose similari insomma la vostra libido resterà insoddisfatta a meno che non vogliate ascoltare una bella storia di wrestling e allora in quel caso siete nel posto giusto ma prima che mi trasformi idealmente non nel pelato di brothers ma in papà castoro è uscito anche male castoro o incantagallo che è più bello vi ricordo di lasciare un like al video e di iscrivervi al canale se già non lo avete fatto allora questa vicenda la pesco dal libro di todd gordon che sto leggendo in questi giorni eccolo qua todd è l'uomo che con i suoi soldi ha dato vita all'embrione che poi si è trasformato in extreme championship wrestling una federazione che a metà degli anni 90 ha totalmente modificato il concetto di wrestling tanto da essere spudoratamente copiata da wwe e da wcw in realtà anche lei era una copia ma ora non addentriamoci troppo nel filosofico ok e restiamo agli albori dei primi show di questa sigla quando non era ancora così estrema ma aveva capito aveva compreso si era accesa la lampadina aveva capito in che direzione correre e nella card c'è un match tra tigra si pronuncia tigra quindi tra tigra sembra uno scioglilingua no tra l'altro sa un po anche di tigre del ribaltabile di quei film con jerry calai e sabrina salerno e con la moglie che gliela ciavo lo stesso c'è insomma dicevo tigra o tigra nel match che come lavoro principale guarda caso fa la spogliarellista e contro di lei c'è pices spero di averlo pronunciato bene che tradotto suona come pesche così siamo in tema col titolo e tra l'altro questa lottatrice è la moglie di the sandman quindi un altro wrestler e mettiamola così non si propone proprio come la classica brava ragazza allora questa è tigra o tigra eccola qui che insomma vedete sembra già ben predisposta ok e questa invece è la sua avversaria con the sandman che la guarda effettivamente molto molto interessato tra l'altro sono foto di inizio anni 90 eppure sembra di guardare dei reperti molto molto più vecchi ad ogni modo la stipulazione tra queste due che hanno accettato è a porte chiuse se fatta pubblicità sopra la pubblicità la stipulazione pubblicizzata è che chi perderà quindi colei che sarà sconfitta a fine match dovrà togliersi la parte sopra del costume e mostrarle alla città beh no solo al pubblico presente però si deve insomma è show and tell anzi qui soltanto show deve mostrare solo che il giorno prima della sfida entrambe si tirano indietro come a dire no dai lo fa quell'altra io no e visto che non c'è un accordo il cielo si divide come in one piece quando viene usata l'ambizione del re conquistatore quando c'è un haki molto forte allora dicevo visto che non si accordano allora propongono un finale caotico mandare tutto in vacca e uscire dal ring senza tenere fede a quanto promesso ai tifosi todd gordon che era contrario a quel match sin dall'inizio era un incontro voluto però dal booker eddie gilbert si trova con le mani legate e gli girano ad elica non perché una delle due non le mostrerà anche a lui ok è sposato a figli chi se ne frega cioè nel caso si compra un giornaletto ma perché sa che non c'è cosa peggiore per un organizzatore che rompere il patto di fiducia con i propri spettatori paganti e quando tutto sembra perso ecco che una terza voce si alza dal backstage le mostro io è la salvezza signori è la voce di angel amoroso un nome che dice tutto angel discende dal cielo per l'alleluia di tutti i seguaci per la gioia di tutti i seguaci della federazione amoroso che porta l'amore insomma non mi sembra però e quindi si fa avanti lei anche se magari nella foto che vi mostro che è stata scattata diversi anni dopo potrebbe non arrapparvi più di tanto però insomma era una bella donna poi sapeva come vestirsi come abbigliarsi quindi va bene ci stiamo e tra l'altro questa foto che vedete è un suo scatto iconico e se volete che ve ne parli magari non ve ne frega niente e che vi dica cosa c'è dietro quest'immagine vorrei vedere almeno mille mi in una settimana sul video quindi roba impossibile perché i video sul wrestling che fanno cultura non se li caga nessuno poi tutti si lamentano però che non esistono vabbè comunque sia voglio vedere un sacco di like se no la storia me la tengo per me ok comunque sia angela concorda di interferire nel match e lì per pura casualità in realtà è tutto concordato rimane senza top e come vedete insomma la sua scollatura è molto generosa e così i fan sono felici e i bambini diventano improvvisamente adulti altri non verranno più portati ad uno show di wrestling e qualche papà si prenderà tre o quattro sberle da parte della mamma presente nel palazzetto sportivo che in realtà all'inizio erano più che altro dei bar o dei night club convertiti a pseudo arena o sembrano vicende di altri tempi di prima del motore direbbe il cantautore e invece nel loro piccolo hanno dato il via ad una rivoluzione nel mondo del wrestling di cui oggi non sussiste più traccia e quando gordon quindi il nostro amico qua del libro che citerò credo in diversi video da qui in avanti visto che condivido la saggezza e le informazioni e le storie che io stesso apprendo dicevo e quando gordon andò a protestare dal suo sceneggiatore per l'idea che è un po il peccato originale che è quella che gli ha messi nel vicolo cieco quest'ultimo gli rispose dobbiamo metterci in testa che nel ring tutto deve essere possibile il ring è il luogo dell'anarchia massima della fantasia dell'irreale che attraversa la dimensione della logica della ragione ride in faccia a queste ultime e eccolo lì è concreto è tra di noi ecco forse il wrestling ha perso questa legge questo assioma questa teoria questo comandamento perché in quest'epoca è accerchiato dal politicamente corretto dal rabbonire gli sponsor dal fatto che la notorietà positiva è l'unico conio che attesta il tuo successo e quindi si rischia almeno possibile si seguono rotte già stabilite sicure certe senza mettere piedi in fallo senza andare a vedere cosa c'è oltre la siepe del quotidiano o della quotidianità che si ripropone sempre uguale e di certo voglio essere chiaro non si può e non si deve tornare ai tempi della donna oggetto delle profanità gratuite della tacita derisione di chi ha allineamenti sessuali diversi dalla vecchia parrocchia e non si può tornare a tanti altri temi che con la luce di oggi sarebbero sconvenienti bigotti o semplicemente stupidi e sbagliati però io credo che sia quella nostalgia e attenzione nostalgia non necessariamente rapportabile a qualcosa che si è visto e che manca ma anche solo ad un'esigenza verace perché esiste la nostalgia del non vissuto per intuizione per desinenza la nostalgia del tutto che può accadere della sensazione che effettivamente non sai cosa ci sarà dietro la porta ecco credo che sia questo il sentimento che fa piacere personaggi un po fuori dalle righe rispetto ad altri parlo di wwe gli elenite i set rollins forse parzialmente anche le ria replay ecco forse questo è il grande ingrediente che si è smarrito nel tempo non in match spogliarello non la violenza ma il tutto può accadere oggi questa sensazione di incertezza di indecisione di noi spettatori di fronte all'ignoto e ad un ventaglio di possibilità enormi infinite non c'è più c'era in quegli scriteriati show di inizio anni 90 che poi si sono trasformati come vi ho detto in una rivoluzione che ha contagiato wwe e wcw e addirittura ha permesso la wwe erano altri tempi quelli della ribellione giovanile accompagnata dalla musica di seattle ha permesso la wwe di evitare la bancarotta e di riaffermarsi come prima forza mondiale all'interno del panorama wrestling ecco questa nostalgia questo tutto può accadere che oggi anche i più giovani mi accorgo avvertono ecco credo che che sia qualcosa di cui tutti sentiamo la mancanza e non ha niente a che vedere con l'età e questo è quanto volevo dirvi magari sono stato un po più confuso del solito spero di no però erano concetti un po complicati da mettere assieme io ho sempre di fronte a me uno schemino di quello che devo dire però è anche complicato legare tutto assieme spero di essere stato un buon fornaio anzi meglio ancora un buon panettiere quindi io ho terminato ora voi lasciate un like e ricordatevi di iniziare i vostri acquisti su amazon dalla mia vetrina è un click passivo non vi costa niente trovate il link nella descrizione del video e poi sotto con le vostre opinioni con dita roventi come al solito nella sezione dei commenti grazie